Ciao amore, mi hai tornato. Che voce sexy amore, questa è l'accoglienza. Sei mancato. Anche tu amore. Ed ecco a voi un bambino totalmente indipendente. Mangia da solo, fa le pause. Si distrae. Oh, bravo. Primi conflitti con la mamma, sta cercando di non fargli toccare le foto, ma... No amore, no. E' bravissimo. Bravo Leo. Bravo Leo. Bravo Leo. Bravo Leo. Bravo Leo. Occhio, occhio amati. Pablo. Cos'è che vuoi amore? Una coca in zero. Ecco Pablo al 41 bis. per infierire ancora di più su di loro e guarda che se ne sbatte lancia il telecomando family con la nonna ciao nonna e cammina poco